Chivasso, a causa di un furto di rame, che ha provocato un guasto al sistema di distanziamento dei trani fra Torino-Lingotto e Moncalieri, la circolazione ferroviaria ha avuto rallentamenti questa mattina tra le 3.40 e le 7.55 sulla linea Torino-Savone-Chivasso-Pinerolo. Lo ha reso noto RFI, precisando che squadre tecniche sono intervenute per riparare il guasto, reintegrare il materiale danneggiato e ripristinare le normali condizioni di circolazione. 21 i treni regionali coinvolti, 6 hanno registrato ritardi fino a 25 minuti, 10 limitati nel loro percorso, 5 cancellati e sostituiti con BAS.